Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.News trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.News can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus, and more. Visit apple.com for details and to send Apple gift cards to your friends and family this holiday season. È arrivata la nuova Opel Corsa! È davvero divertente da guidare e ricca di tecnologia! E posso avere la benzina o elettrica da 149 euro al mese? Nuova Corsa con i Centivi Opel, tua da 149 euro al mese! Anticipo 2.284 euro, ta notte 99, tae 11 e 3. 35 rate mensili, 15.000 km, rata finale 10.857 euro. Con scelta Opel fino al 31 dicembre, salvo approvazione di Stellantis Financial Services Italia. Info su Opel.it Viviamo un'epoca molto molto particolare dal punto di vista sociale, emotivo, familiare. Questo inevitabilmente si ripercuote sulle nostre identità, si ripercuote su quello che siamo e di conseguenza nel nostro rapporto con il prossimo, in modo particolare verso l'altro sesso, per chi è eterosessuale, verso lo stesso sesso, per chi è omosessuale, verso un sesso indefinito, per chi si vuole descrivere come si vuole descrivere. Ma oggi quello che vogliamo fare è portare un concetto ovviamente di verità sul mondo delle giovani donne, delle giovanissime, per questo pupette, che può sembrare una provocazione, forse lo è, forse no, ma non siamo dei vigliacchi, non siamo dei misogini che sono qui a parlare male di qualcosa, bensì voglio ricordare a tutti e a tutte che giochiamo per la stessa squadra. Con me, in questo viaggio, ho un ragazzo, giovane attore, Jacopo D'amore, io preferisco chiamarlo D'amore e basta, insomma, pupette con D'amore. Un ragazzo che questa sera non è qui per i suoi meriti attoriali, ma è qui per mille motivi, per mille esperienze, e io devo dirlo, devo dirlo, devo dirlo, ho i diritti di vendita del suo profilo Tinder, inutilizzato da un po', oltre mille passamatch, al modico prezzo di 15.000 euro, IVA esclusa, io venderò i diritti con tanto di immagini, cioè potete fingervi D'amore, oltre mille match già messi dentro, messi dentro nel senso, lì poi con qualcuno ci si era uscito, con qualcuno a meno, ma questa gag a parte è per dire che è un ragazzo che qualche avventurina se l'è fatta, qualche relazione l'ha avuta, vuoi dire qualcosa su questa presentazione D'amore? Ma dopo questa gag di Tinder, Tinder, non so sinceramente cosa dire, no vabbè era una roba molto ormai vecchia, insomma, sei cresciuto, come mai hai abbandonato la piattaforma? Perché dopo un po' capisci che non vale, insomma, cioè la piattaforma io me la scaricai quando una persona che conosco bene stava lì, che ci sguazzava dentro e quindi ho detto, vabbè vediamo così per curiosità, ma poi insomma è durato il tempo che è durato. Sei divertito? Ma sì, qualcosa, ma niente di che, insomma, cioè nel senso, le esperienze le ho sempre avute al di là di... Che cosa diresti a un giovane ragazzo che si apre Tinder adesso, e sta iniziando a mettere foto? Gli daresti un consiglio su come attuarlo, oppure gli diresti di non scaricarlo? No, gli direi di non scaricarlo. Ok. Gli direi di non scaricarlo perché, cioè ripeto, io per carità non giudico chi lo fa perché sono il primo. Chi sei tu per giudicare? No, perché sono il primo che... Che hai marciato. Sono il primo che ce l'ha avuto. Sì, sì. Però poi ti rendi conto. Ne hai anche abusato, visto i miei mille. Ma no, io no, in realtà no, perché stavo lì, ce l'avevo e mi arrivavano ogni tanto, facevo lì così, ma niente di... Chiudiamo. Magari... Comunque non ve l'ho scaricato. No, non l'ho fatta, non l'ho fatta. più che altro perché, scusami, perdonami, cioè va bene sì provarlo per carità, però poi capisci che, cioè le vere esperienze, no, quando conosci una persona dal vivo, come a me per fortuna, ma penso come a tante altre persone, è capitato. Cioè anzi come a tutti quanti gli esseri umani è capitato. Anzi sì, che poi bro, Tinder... È un'altra cosa. Tinder partiva come piattaforma per scopare, tra parentesi è diventata, secondo me è una piattaforma di persone sole. L'ultima volta che ho fatto un accesso, qualche mese fa, mi sono reso conto che c'erano persone che volevano proprio parlare dei loro problemi. Sì. E questo la dice lunga, ma voglio presentare un'altra persona che è qui con noi questa sera, in rappresentanza, in rappresentanza di queste pupette. Delle donne, non delle pupette. Sì, ci stavo arrivando, ci stavo arrivando, ti devi stare calma, hai tra l'altro, ti sei talmente tanto vicino dal microfono che mi hai quasi distrutto, ma salviamo la distorsione, perché il monologato è questo, è puro delirio. Dicevi, in rappresentanza di queste donne, di queste giovani donne, il futuro radioso di questa femminilità, a voi ascoltatori del monologato, abituati a maschi e maschiacci, Carola Grilli. Ciao a tutti, io non posso vantare il curriculum di Jacopo d'Amore, però... Credo proprio di no, anche perché saresti considerata una baldracca. Sì, no, baldracca no, una ragazza che si diverte come si diverte Jacopo d'Amore, però... Assolutamente, però Jacopo d'Amore ha appena detto che non si divertiva. Jacopo d'Amore ha appena detto che non si divertiva in questo. No, mi sono sempre divertito, cioè, al di fuori, nel senso era una cosa così, sì, mi è capitato di avere delle occasioni, ma roba molto povera rispetto. Beh, io Tinder non ce l'ho, però so di tante storie, di amiche che in realtà ci hanno trovato anche l'amore su Tinder. Mamma mia! Certo! No, 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 ma infatti... so che ci sono anche delle regole per crearsi il profilo giusto, perché poi, se c'è il profilo giusto che rispecchia la tua identità e personalità, riesci anche a trovare la persona che in realtà è compatibile con te. Non è un giudizio, infatti Damore, secondo me, non era contro il discorso Tinder, ma contro il discorso lo scarico perché voglio farmi una scopata, capito? Se mi fai una scopata, che te posso dire, vai a puttane insomma. No, no, esatto, ma io anzi, lo scaricai così, per curiosità, poi... grandissimo rispetto verso le mignotte, le baltracche, come lui ha detto, di l'interesse della baltracche, rispetto, ce n'è, ce n'è, ce n'è, No, no, è chiaro, è chiaro, ma ognuno poi fa quello che vuole. Ci mancherebbe, la libertà totale è la base del monologato. No, quello che ci tenevo a dire prima è che comunque non c'è paragone rispetto al conoscere una persona vis-à-vis subito. Certo, ma poi lo fai. Cioè, sì, no, no, è chiaro che lo fai, però quel brivido quando quella persona non l'hai mai vista prima e non ti ci sei neanche organizzato e l'avete. Io credo... L'hai contact prima di... Io credo che d'amore stia parlando del colpo di fulmine. Sì, sì, sì. È una cosa rara, a me mi accade una volta ogni dieci anni e mi condiziona la vita per circa sei mesi. Ma questa è un'altra storia. Carola, quando io ti ho contattato, noi abbiamo contattata, eravamo qui, stiamo facendo delle prove, per uno spettacolo, stiamo cambiando il teatro italiano e tutto quello che c'è dietro. E ti ho detto, guarda, ti vorrei per una registrazione per questo podcast che si chiama Pupette. Tu, la domanda non è che cosa hai pensato, ma perché hai accettato? Beh, ho accettato perché mi fa sempre piacere fare una chiacchierata con gli amici e magari, che so, mi piacerebbe anche capire più cosa voi ragazzi avete in testa e cosa pensate di noi. Ragazze. Volevo domandarti, hai un elemento per attaccare la categoria dei ragazzi? Dico, in queste tue esperienze recenti, magari, hai un elemento che dici, guarda, sta cosa qua c'ho proprio da ridire? Beh, le tattiche che usate sui social per rimorchiare le ragazze non sono proprio efficaci. faccio un esempio, faccio un esempio. Adesso siete molto facilitati con, che ne so, il like su Instagram, ma il like non mi dice niente. Mai fatto. Mai fatto, allora, Jacopo d'amore è... Al massimo posso rispondere ad una storia. Certo, la risposta alla storia, il fuoco, il fuoco come reazione, grazie. Il fuoco come reazione. No, è molto imbarazzante. È veramente imbarazzante. Deve andare dritto al punto che il like non mi rappresenta niente. Certo. Cioè, il like me lo può mettere anche mia zia. No, giusto, giusto. Un attimo, mi sono perso che sto riflettendo a alcuni modi di approccio che sono usciti fuori dalle conversazioni private di Matteo Messina Denaro. No, e lui intanto mandava cose, devo dire, uomo d'altri tempi ma molto moderno. No, però Karola ha ragione. Cioè, nel senso, è vero, troppe ha ragione. Cioè, nel senso, sì, si dovrebbe stare, secondo me un po' più tranquilli e scialli. Senti, Karola, una domanda voglio fartela subito. Ma perché voi ragazze anche nell'inverno più freddo avete le pance scoperte? Io vi adoro, sia chiaro, sia chiaro. Abbiamo molti anticorpi. Sia chiaro. Io, nel momento in cui ho un minimo di intimità con una ragazza, la cosa che più mi piace fare è prenderle ai fianchi. Quindi, io vi ringrazio per questo, ma mi dovete spiegare perché. Cioè, io esco tuta termica, due felpe, il cappotto pesante di mio cugino che faceva 30 kg in più di me. Quindi, esco praticamente in un lenzuolo, faccio schifo tutto l'inverno per come mi concio, per quanto non sopporti il freddo e poi becco, ragazze, dai, 11 anni proprio. Cioè, già 11 anni già state scoperte. Fino a quasi 30 anni che state così. Tra parentesi, lui dici, finché vedi le ragazze 15 anni, ci alzò le mani, queste stanno a 2000, pure io in 15 anni andavo senza. Ma voi ragazze che avete superato i 20? Ma com'è possibile? Beh, io penso che ci siano due categorie di ragazze, non una, non quella pancia scoperta. Quella pancia scoperta è quella leggings, calza, stracalza, se potessero anche i piumoni addosso. perché c'è a chi piace vestirsi mostrando il suo corpo. Mi devi spiegare, al di là di mostrare e non mostrare, com'è possibile che uno non vi ammalate brutalmente, molti di voi si ammalano per me lo fanno vedere. Siamo, lo dico anch'io perché anch'io l'ho fatto. Io a 13 anni uscivo d'inverno con i pantaloncini senza calze, cioè non mi ammalavo mai. Perché dici cazzo fa un freddo cane mi piaceva vestirmi così. Mi piaceva cioè non c'è una risposta particolare però non mi ammalavo. Forse si sviluppano degli anticorpi che in realtà non tutti hanno, non lo so. C'è un altro imprinting che forse c'è quella marcia in più. Sì, è vero, questa cosa me la sono sempre chiesto. D'amore, per te com'è la ragazza ideale? La ragazza ideale? La ragazza ideale per D'amore. Io rispondo subito perché la mia risposta è breve. Quella in pigiama. Quella adoro. Adoro la donna in pigiama. Che non vuol dire la donna in cucina. Io mi sentirei veramente in imbarazzo se tornassi a casa e una donna mi cucina un piatto. Io nelle elezioni vecchie a scuola non mi sentirei proprio ma mamma mia deve essere proprio brutto grazie al cazzo che c'è stata questa rivoluzione. Però, lo dico, io, carità, la donna è bella vestita da serata la donna sportiva la donna ma la donna in pigiama non so posso farci una domanda? Qualsiasi pigiama? Cioè, accetteresti anche gli orsacchiotti col pile? Perché dobbiamo sporcare la poesia? Perché? Perché io so conti conosco io ti penso già al pigiama di seda. Io accetterei gli orsacchiotti sarebbero molto carini. Perché no? Quindi questo è già un pezzo della risposta di D'amore. Perché no? Sì, D'amore. Continua per cortesia perdonami se ti ho interrotto. No, no, ci mancherebbe. Beh, che dire, la domanda è complicata e bella complessa. La domanda è complessa perché la ragazza ideale dipende sotto quale punto di vista. Se da un punto di vista caratteriale o da un punto di vista estetico. Io chiedo un connubio e anche una sorta di come si dice quando uno deve fare un po' un bilanciamento. Magari ti piace un po' meno dal punto di vista estetico o un po' di più. Ma guarda, qual è l'equilibrio di D'amore? L'equilibrio di D'amore? No, beh, io ti posso dire questo che cioè, andando avanti mi sono reso conto che alla fine non ho una ragazza ideale. Cioè, ma ho dei sentori che mi portano più che altro ad avvicinarmi ma non ho un tipo ben preciso. Cioè, se devo andare a vedere qualcosa sicuramente mi baserei sul carattere. Mi baserei sulla delicatezza di quella persona, sulla dolcezza, sul fatto di ok, però nello stesso momento una persona che mi sa tenere testa ma per quello che sono io. Poi magari io sono un coglione quindi mi tiene testa per quello che serve. Non perché non è che voglio dire che però oltre a questo sicuramente c'è pure una componente cioè un connubio sicuramente caratteriale tra queste due cose. Carola, a te piace l'uomo che ti tiene testa? Beh, sì. Sì, sicuramente. Deve avere una grande personalità. Ok, allora voglio farti questa domanda a te e ti ringrazio per questa meravigliosa risposta. Voglio chiederti com'è possibile che proprio per statistica ti parlo uscendo con varie tipologie di ragazze perché io e tanti altri caduti in battaglia se sentite dei rumori è d'amore che prende delle dolci caramelline Ariba Si può dire? No! Non diciamo la marca ma che no perché capito poi c'è ogni sponsor che ci rimangano male no vorrei sapere per quale motivo cercate sempre di ridurci a noi uomini con un minimo di personalità a dei cani Vedi secondo l'antica filosofia della mobilità ci vogliono molti anni per raggiungere l'equilibrio perfetto tra forza ed eleganza tranne per Peugeot 3008 in pronta consegna e con 9.000 euro di vantaggi parti subito e senza pensieri con il SUV iconico dal carattere deciso linee raffinate e l'innovativo Peugeot E-Cockpit valido solo per vetture in stock con finanziamento iMove e immatricolazione entro il 31 dicembre 2023 scopri di più su Peugeot.it